Il caffè amaro di oggi lo prendiamo con Paolo Borsellino e Silvio Berlusconi. Vi ricordate la famosa ultima intervista di Borsellino? Quella fatta dai due giornalisti francesi che continuavano a chiedergli dei rapporti tra Mangano, Dell'Utri e Berlusconi. Quel colloquio è stato reso celebre da Marco Travaglio nel suo libro L'odore dei soldi, lanciato in prima serata da Luttazzi. Cavaliere dove ha preso i soldi? L'ottimo Gabriele Paradisi sul suo canale YouTube Contro Disinformazione ci mostra e dimostra che quel pezzo era una manipolazione. Le risposte di Borsellino sono state tagliate e cucite. Il senso delle domande è alterato. Quando addirittura le domande non sono state ricostruite in studio dopo l'intervista. Nella conversazione originale Borsellino si guarda bene dall'attribuire significati alle telefonate sui cavalli tra Mangano e Dell'Utri. Anzi, di una telefonata chiarisce che non era avvenuta tra Mangano e Dell'Utri, ma tra Mangano e alcuni mafiosi della famiglia degli Inzerillo. Ma il senso di tutto questo è stato alterato e manipolato per fargli dire cose molto diverse. Andatevi a guardare il video completo di Gabriele Paradisi. Iscrivetevi al mio canale YouTube e state sempre dalla parte della verità.